ehi hai deciso di uscire ma per stare sotto il letto ehi vedi ti fa ora ti dice Elvis cosa devi fare ehi ma stai attento Elvis che ti può menare in faccia perché è cieco e non capisce niente ragazzi se questo si sente braccato che lo dorate tutti qua succede una strage ve lo sto dicendo lasciatelo stare perché è appena uscito Elvis vieni qua amore spostati da là ora è uscito questo di là si è messo pure lo scemo di di petugia lei esci da là dai il miglior invalido sei tu c'è un moscone perché non lo prendi via è un moscone